La prima band che ho cominciato ad ascoltare nella mia vita, da piccolo, sono stati i Queen, che in realtà hanno una chitarra molto diversa, con un suono molto particolare, che è irriproducibile, diciamo, no? Quindi in realtà questa domanda mi fa pensare a una cosa totalmente diversa, però per esempio gli Strokes, che sono invece una band molto più recente di quelle che mi hanno fatto decidere di imbracciare la chitarra, sono stati una band che ha molto influito nel mio suono, anche nel mio modo di suonare, anche nel mio atteggiamento proprio sulla chitarra. A un certo punto ho pensato, ah, sì, una cosa un po' alla di Edge, ma senza conoscere poi così tanto bene di Edge, ovviamente lo conosco perché i due sono troppo importanti per non conoscere quasi tutte le canzoni, però non è mai stato il mio chitarrista di riferimento, diciamo. È capitato. È strano perché poi io penso che uno quando suona deve un po' sentirsi libero di fare quello che gli esce, no? Dalle mani, senza stare lì a voler imitare una cosa o un'altra, no? Io sono convinto che uno strumento ti deve piacere anche esteticamente, non soltanto come suona, diciamo. Se suoni con una chitarra che ti piace, di cui magari ti piace il colore, anche semplicemente, diciamo che ti fomenti di più, fondamentalmente. Ho una Dusemberg, fornita da Aramini, con cui faccio alcuni pezzi, che poi sono alcuni dei più famosi, sono, diciamo, due dei singoli che hanno girato di più. È una chitarra che io personalmente avevo scelto prima di tutto perché mi piaceva esteticamente, poi ho chiesto di provarla e mi è piaciuta anche come suonava e quindi ci ho volato, insomma. Io sono sempre stato un grande fissato degli effetti, ne ho posseduti tantissimi, sempre ho avuto delle pedaliere molto, molto ampie, e però il camper mi ha un po' cambiato la vita, devo dire che è tutto più veloce, puoi fare le catene effetti come ti pare, insomma, ed è soprattutto molto credibile. Io ne ho provati di strumenti di emulazioni di amplificatori digitali, eccetera, e non mi hanno mai convinto. Poi io penso che l'esperienza di avere un ampli davanti, suonare con la chitarra dentro all'ampli, con l'ampli che ti arriva proprio il vento, cioè con l'ampli che ti spettina un po', è ovviamente una cosa che col camper non ritroverai mai. Però il suono di quell'ampli tu lo senti soltanto quando stai a casa tua davanti all'ampli, ma nel momento in cui vai a registrare o nel momento in cui vai a suonare live, questo suono incredibile che esce comunque passa dentro un microfono, passa dentro, cioè fa una catena, eccetera, e quindi diciamo che alla fine dei giochi il camper gli somiglia particolarmente, soprattutto se la chitarra poi è inserita dentro una band con tanti strumenti. Magari ecco, se uno dovesse fare un disco solo chitarra, una chitarra blues che è in primo piano così, magari ovviamente forse un ampli valvolare potrebbe dare di più, ma anche no. Cioè nel senso io mi trovo molto bene.